questo è quello generale tu dici che non può essere quest'altro pure, un fraffa da filtro? quello deve essere quello pure per me, qui ci stanno acque chiare e acque scure mazza deve essere stappato era lì il tappo, perchè ho sentito lui? quello è nato, il tappo stava fuori? si quando scende su quello rosso sono due bologhe, è nato uno di qua il tappo e io mi chiudi ah ecco il tappo stava fuori ma è stappo ma è stappo adesso si è arrivato qui eh si è arrivata la parete e quando è arrivata la parete è sparito il nome c'è un altro scarico lì all'anno, non l'avevo visto quello dovrebbe essere il discendente che le fa? eh il discendente che lo fa? il discendente ok chiudi ma chiudi la fissa poi questo vengono sulla parola sulla parola ma questo è più pro come va deciso la maggioranza qui giustamente l'unica cosa che dico che c'è con tutti i ragioni non c'è stata indicazione che buttavano il giorno e poi mi dice Giuliano non vengono a ritirarla sta monnetta vuoi venire a casa tre, quattro, cinque, sei, sette giorni allora tu fai così io fai così io fai così ma siamo in 12 siamo anzi ora in 12 qualcuno non lo fa allora dobbiamo mettere la lava o più o più o più giù perché se no non si spossa l'aria ma che fai all'interno Paolo? ma che fai all'interno Paolo? si per me se lo fai girato in qua perchè viene questa città che dirà vai 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 io lo lo l'uomo la la Grazie.